la situazione è stata molto brutta incominciate con lampe, tuoni, in un certo rumore forte e giù questa valanga di vetri, di acqua, fango, non si è capito più niente qui c'è stato un accumulo di macerie, motorini sotto terra, giù in fondo qua non si è capito niente è sfondato case, fino al soffitto hanno perso di tutto di tutto questo è un po' perché è proprio l'incendio che è successo a Maccio a Maccio c'è stato un incendio che ha bruciato tutta l'isola logicamente tutte le sterpaglie, albri bruciati praticamente non bloccavano tutta questa roba qua ed è deciso di quanto ci faremo quanto credo qua era una avalanca proprio era un fiume in piena, da paura, scena da paura ero sopra qui, ero sopra e veramente teni la pella dopo, la piange grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti